non mi fanno impazzire kitkats sono buonissimi che cazzo buoni kinderbueno io amo quelli però bianchi colo bianco ti giuro pure molto buono le pippo si però non è facile da trovare c'è qui a milano lo trovo una roma è pieno roma è pieno anche sul mercato proprio si 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 qua ci sono dei negozi che proprio te li tirano dietro si qualunico negozi tipo store basta lui di storia forte per tipo marty comunque a me non mi raccoglie le armi da parterra e non sto scherzando io non voglio lamentarmi ma veramente diventa quasi una russola di così arrivo sul tetto fatto uno marty no questo capo sul pisellino e avevo solamente la pistola gg allora faccio queste non fatevi abbattuto abbattuto una in questa torrettina qui dentro si però aspetta sai che faccio ancora con la torrettina io fai trick ballack una bella cecchina a uno sotto minchia gliel'ho tirato dentro oddio gli ho fatto 100 distrutto distrutto uno arrivo tesoruccio marty stanno facendo cose strane con la macchina veramente ti giuro mi rilascio di giorno rilascio ci credo marty ci sto marty eh una patata 22 22 è morto marty 50 white 26 white ci sto ci sto ok ho fatto quello che potevo marty uh no no mi chiami mi chiami ha dato una mano altro che e la madonna marty gira di verso di me e questo è il pompone leggendario se puoi prendilo eh ok ora la lascio questa fortnite adesso dovrebbe lasciare la corsa infinita quindi dici la stamina proprio all'infinito sì 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 secondo me sì secondo me sì perché abbiamo bisogno di 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 velocità capito cioè mettila sempre la corsa e c***o te ne frega o comunque potenziala di brutto capito come cioè proprio vieni ma qua macchina qua vai cioè secondo me ci sta io ho paura che in build sia forse troppo forte sì eh vabbè ma scusami eh ma se comunque le modalità sono separate facessero le modalità separate o no dici che non ha pa eh quello sì però non ormai non lo fanno più eh beh peccato è sbagliato secondo me perché per esempio anche la roba del siphon non è giusto che l'abbiano tolto alla fine nessuno si era la metodo del siphon però la no ma il siphon non è giusto né che l'hai tolto in build e che non build cioè il siphon va lasciato infatti sono d'accordo cioè se io mi faccio il buco del c***o per farmi un team a me mi devi dà qualcosa no sono d'accordissimo ma infatti boh 50 e a tutte e due bene ok una c'è il cecchino quindi è un fiodena distrutto uno bene white lo pusho andiamo 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 ha battuto uno occhio marty questo è infiuto una c***a no quell'altro sì sì ma guarda marty io ho la x sulla connessione vedi che c'havo ragione eh sì allora sì vedi che c'havo ragione marty tu sei ho 26 di ping c'ho team ecco immaginavo e sono le 2340 ok tutto torna sì magari con il 28 mi faccio una linea dedicata all'ufficio dovrebbero stare qua eh anche secondo me sì mi metto subito sopra sono nel bush li sento nel bush nel bush nel bush 70 battuto io sono morto lo pusho da quella 19 madonna stissierre che sparano così che fastidio ah stai busciando cattivissimo arrivo i rampini i rampini vabbè aspettiamo allora io posso farne uno qui un po' il cazzo nel senso no marty capisci quando io ti dico non va bene ok posso dirti che ho uno s*****o questo eh marty marty io io mi sto facendo s*****o dalla montagna che cazzo vi devo dire mi pusho salgo ci sto marty ci sto marty è bravino eh è molto bravo 116 marty mi curo un secolo ok oh te ne vai via peter griffin del m***a eh è qua dentro uno no ah ok però non è peter griffin ok no 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 stanno forse in due probabilmente li ho visti stanno al piano sopra ha battuto bellissimo guarda me ci sono bionda molto bene quanti metaglioni hai? ehm uno ok in due arrivo di ranfino arrivo di ranfino batto comatti aspetta altro di me altro di me altro di me faccio questo? via 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 ok occhio dimmi se arriva non arriva perché non arriva non arriva eh arriva un altro però bravissimo più di troia fatti questo fatti questo fatti questo no 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 gioco 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 devo mantenermi mai sopra io zona molto guarda ti dico la partita è bella ma pure come si sta muovendo la safe se posso permettermi è divertente l'ultima di partita che abbiamo fatto è veramente figa allora siamo otto persone siamo in cinque team quindi c'è una solo sicuro due stanno là la solo è Peter Griffin non è che è vero è quello str***o mi guardami qui c'è Peter l'ho visto ok ragazzi questo Peter Griffin è un pericolo pubblico ve lo giuro lui non si è accorto neanche di me eccolo occhio ho sentito passi ho sentito passi ecco a sinistra 28 mio mi ha minuto e mette fortatile si 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 fortatile va bene può andare peggio tutto storto purtroppo ho l'ultimo poi si 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 allora starò dentro casa a destra ok c'è questa duo e un solo un cattile 44 bianco 37 a destra a destra a destra visto abbattuto bravissimo tanto non può restarlo lo resta lo resta lo resta dici ah andiamoci fine 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 ok e un solo bellissima bellissima questa è stata bella 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 molto bella questa molto bella 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 bella